E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avete letto dal titolo andremo a parlare delle novità che sono state annunciate ieri sera dal canale ufficiale di Destiny e che riguardano la stagione della ricchezza ovvero la stagione che comincerà il 4 giugno settimana prossima per intenderci. In questo video andremo a vedere molto rapidamente quali saranno i cambiamenti che verranno effettuati e esprimeremo un piccolo parere per comodità trovate qui in sovraimpressione i minuti in cui andremo a parlare di ogni singolo aggiornamento. Ma detto questo direi subito di iniziare. Il 4 giugno inizierà quindi la stagione della ricchezza dovremmo quindi tornare sul Leviatano per completare diverse sfide la prima delle quali sarà Menagerie ovvero la nuova modalità PvE che per la prima volta nella storia di Destiny potremo giocare in 6 giocatori. Questa modalità sarà una modalità ad assedio saremo quindi in una stanza e riceveremo dei mob fino a che magari completando dei piccoli puzzle arriveremo fino alla boss battle. Non so quale possa essere il nome di questa modalità in italiano ma la traduzione letterale è Serraio ovvero una sorta di zoo in cui vengono contenuti degli animali in cattività presi da in giro per il mondo. E a questo punto mi sento di dover citare il caro Nogaz che aveva centrato in pieno quello che andremo a incontrare la prossima settimana. Più nel dettaglio questa attività ci permetterà di esplorare una nuova area all'interno del Leviatano all'interno appunto del quale si svolgerà essa stessa e verrà introdotto un elemento strettamente collegato chiamato calcio della ricchezza. Questo calcio ci permetterà man mano che lo potenzieremo di scegliere sempre con precisione cosa vorremmo droppare all'interno di Menagerie. Inoltre è già stato annunciato che il 25 giugno uscirà anche una versione eroica di questa modalità che non sappiamo ancora in cosa differisca però da quella normale. Andiamo però a vedere cosa ne pensiamo noi di questa modalità. Sinceramente a primo impatto la vedo molto molto simile ad una prigione degli anziani e l'unico motivo per il quale potrebbe differenziarsi da questa secondo me è l'utilità dei drop. Per intenderci modalità quali le forge e azzardo eccelto sono state quasi schifate dal pubblico per il semplice fatto che non avevano un drop in grado di volerci far giocare. Altre come per esempio il protocollo sono riuscite con i loro drop unici, rari e veramente molto molto forti a farci stare attaccati le ore cercando appunto questo fatidico pompa che poi vabbè è stato patchato ma quella è un'altra storia. Quindi secondo me la chiave del successo di Menagerie dovrebbe essere sicuramente il drop. Speriamo quindi che i drop che verranno aggiunti ne varranno la pena. Andiamo però adesso a parlare del ride con una della tristezza. Come già sappiamo questo lo troveremo direttamente dal day one ovvero dal 4 di giugno alle ore 1 di notte italiane e fino a che non sarà completato almeno una volta da un team in tutto il mondo tutte le altre fonti di p3 miliari saranno bloccate. Dalla resetta del 4 potremo quindi ricevere due armamenti potenti a settimana ovviamente finché questo ride non sarà sbloccato. Una volta completato tutte le attività ritorniranno come prima. Questo secondo me ragazzi è un elemento molto molto carino che Bungie ha voluto inserire sia per dare un attimo più visibilità alla corsa al ride e sia per renderla più accessibile a tutti perché normalmente abbiamo visto i soliti team, i soliti streamer che finivano il ride entro 12 ore e noi eravamo impossibilitati sia per il fatto che non giochiamo quanto loro e sia per il fatto che eravamo molto indietro di luce. Serviva infatti una preparazione molto molto elaborata per riuscire ad arrivare al ride con un livello di luce abbastanza alto. Adesso però questo sarà pressoché inutile infatti il primo step sarà bloccato al 700 e l'ultimo step sarà bloccato al 720. Questo significa che qualunque armatura sopra a questo livello di luce sarà portata comunque al 700 per quanto riguarda le attività all'interno del ride. Il tutto renderà la corsa ride più difficile e più competitiva e staremo a vedere come si svolgerà. Andiamo però a parlare ora dei nuovi armamenti che verranno aggiunti con la nuova stagione e che sono come ho già detto strettamente legati al calcio della ricchezza. La maggior parte di questi saranno droppabili da menageri, ci saranno quindi un set di armi e un set di armature. Tra questi sarà presente il verità, il lancerazzi esotico che abbiamo già visto in Destiny 1 e che verrà aggiunto l'11 giugno con una quest tutta sua. Oltre a questo abbiamo rivisto il pungiglione di Kef e delle braccia esotiche anche queste prese da Destiny 1. È stato però detto che saranno aggiunte anche delle nuove esotiche che finora non abbiamo mai visto. Ovviamente ragazzi c'è poco da esprimere pareri riguardo gli armamenti nuovi che sono sempre ben accetti, soprattutto con questo sistema del calcio della ricchezza che potrebbe renderli ancora più interessanti. Se non fosse ragazzi che tutte queste armi sono tutte dei reskin. E voglio fare un discorso molto breve e conciso. Con la mia lamentata dei reskin non voglio dire che non userò queste armi o che non giocherò alla stagione della ricchezza perché ci sono i reskin. Voglio solamente dire che sono i dettagli secondo me che fanno la differenza tra un prodotto mediocre come quello che stiamo giocando quest'anno e un prodotto fatto per bene come quello che è stato i rinnegati. Il reskin non è altro che una mancanza di fantasia che tra l'altro in questa stagione è stato cercato di portare addirittura positivamente perché hanno utilizzato lo stesso schema utilizzato per la Yas Luna e per il falco lunare. Facendo quindi in qualche modo credere alla maggior parte della gente che ritorneranno a una di queste due armi. Andiamo ora a parlare delle armi del pinnacolo, queste come al solito saranno tre. La prima, quella del crogiolo, sarà un cecchino e si chiamerà il revoker. Il perk di quest'arma ci permetterà di far tornare nel caricatore dopo poco tempo i colpi che mancheremo. Il perk secondo me è molto molto equilibrato perché aiuterà chi già sta usando il cecchino con un piccolo bonus in più ma non lo renderà un'arma da abusare. Quindi magari un'arma che come poteva essere avrebbe permesso alla gente di andare in giro o di shottare all'infinito. L'arma dell'avanguard si chiamerà invece Wendigo e sarà un lanciagranate. Il suo perk ci permetterà di aumentare danno e area di impatto quando raccoglieremo le sfere di luce. Perk che devo dire in PvE sarà sicuramente buono per pulire e probabilmente anche per quanto riguarda la maggior parte dei boss battle. E che però potrebbe trovare un'applicazione anche in PvP. L'ultima arma, quella di azzardo, si chiamerà Hush e sarà un arco. I colpi precisi senza ricaricare aumenteranno la velocità di tensione. Questo sarà il suo perk che sinceramente io vedo molto più utile in PvP più che in PvE. Infatti detto che quando riusciremo a sparare una freccia in testa al nemico senza mirare, e che comunque non è una cosa molto molto facile, perlomeno per quanto riguarda chi gioca da play, la velocità di tensione dell'arco aumenterà a dismisura permettendoci di sparare frecce sempre più velocemente. Per quanto riguarda i perk dell'arco e del lanciagranate non so se questi possano essere cumulabili o se addirittura saranno permanenti, ma questo lo scopriremo giocando. Arriviamo ora all'elemento che in me ha suscitato molto più interesse, ovvero la quest Lumina che verrà aggiunta il 2 luglio e che ci permetterà di droppare la rosa, la versione precedente dell'aculeo. Non saprei sinceramente darvi opinioni su questo elemento se non fosse il fatto che l'arma è veramente veramente molto figa, e che penso comunque sarà un archetipo di arma molto simile alla culeo, dato che comunque è lo strumento da cui poi è nata appunto la versione malvagia. Di conseguenza non penso si discosterà tanto dalla culeo. In generale nell'ultimo periodo di quest'estate, dal 9 luglio, verranno riaggiunti i momenti di trionfo. Devo dire un elemento abbastanza carino che comunque ci tiene un minimo attaccati al gioco, mentre il 30 luglio tornerà il sossizio degli eroi, con un sistema probabilmente molto simile a quello dell'anno scorso, e con delle armature, anche queste praticamente reschinnate, perché sono identiche se non fosse che hanno aggiunto qualche ologramma in più, e qualche scarabocchio dorato qua e là. Quindi ragazzi queste erano tutte le novità che troveremo la prossima settimana da martedì, io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate e condividete, lo dito a tutti quelli che non conosciate, che non conosciate la città bellissima. Seguite anche su Instagram, Facebook come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, e mi raccomando scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi di queste nuove modifiche, e detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gauda, per la tua luce, e mia. Gauda!